Nelle ore in cui vanno avanti i lavori tra Lega e Movimento 5 Stelle con l'obiettivo di chiudere le trattative giovedì arriva intanto il monito del presidente Luca Zaia. Il governatore della regione Veneto ricorda le priorità che un governo giallo-verde non deve dimenticare. Se facciamo questo passo dal governo Lega 5 Stelle il dato concreto è che Lega 5 Stelle non possono avere alibi rispetto al fronte dell'autonomia cioè è un progetto che dobbiamo portare avanti. Grazie a tutti.